Nella pillola di latino di quest'oggi ci occupiamo degli aggettivi e dei pronomi possessivi in latino, o meglio, di un caso particolare di essi. Questo perché se gli aggettivi e i pronomi possessivi di prima persona e di seconda persona, sia singolari sia plurali, non presentano particolari problemi. Al contrario, il possessivo di terza persona, singolare e plurale, richiede un po' più di attenzione. Vediamo per quale motivo distinguendo con chiarezza due casi diversi, che chiameremo caso A e caso B. Partiamo dal primo. In latino, il possessivo di terza persona, singolare e anche plurale, la forma è la stessa, è sus, sua, sum e corrisponde all'italiano suo, al singolare, e all'italiano loro, al plurale. Questo possessivo ha sempre valore riflessivo. Che cosa significa? che fa riferimento al soggetto grammaticale della frase. Lo possiamo capire con due diversi esempi. Uno al singolare, l'altro al plurale. Partiamo dal primo. Bona matrona filium sum amat. Come vedete, ho utilizzato il possessivo di terza persona, singolare, in questo caso sum. Guardiamo la traduzione. Una buona matrona, soggetto, ama, predicato verbale, chi che cosa, suo figlio, complemento oggetto. Ovviamente il figlio è della matrona, e la matrona in questa frase è il soggetto grammaticale. Dunque per dire suo figlio è suo figlio, il latino è obbligato ad utilizzare sus, sua, sum, cioè suo del soggetto, in questo caso suo della matrona. Vediamo un secondo esempio analogo ma al plurale. Nella frase tribuni suas copias incastra ducunt. Ecco la traduzione. I tribuni, soggetto, conducono, predicato verbale, chi che cosa, le loro truppe, complemento oggetto, dove, nell'accampamento, complemento di luogo. Qui si parla delle loro truppe, perché le truppe appartengono ai tribuni che sono il soggetto grammaticale di questa frase. Dunque, facendo riferimento le truppe al soggetto, il latino è nuovamente obbligato ad utilizzare il possessivo sus, sua, sum. Dunque, ripeto, quando in latino l'aggettivo deve avere valore riflessivo, cioè deve fare riferimento al soggetto grammaticale della frase, dovremo utilizzare il possessivo di terza persona sus, sua, sum. Passiamo ora al caso opposto, che ho chiamato caso B. Quando invece in latino non ci si deve riferire al soggetto grammaticale della frase, ma ad un'altra persona, ad un'altra cosa presente nella frase stessa, dovremo utilizzare un'altra forma, un altro possessivo. Precisamente il latino utilizza eius, 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 maschile, femminile, neutro, ed, eorum, earum, eorum, maschile, femminile, neutro, l'uno per il singolare, l'altro per il plurale. Cioè utilizza le forme di genitivo singolare e plurale di un altro pronome, che studieremo più avanti, il cui nominativo singolare è is, ea, id. Come vedete, una forma completamente diversa da suus, che abbiamo visto poco fa. Dunque, quando non si deve utilizzare il valore riflessivo, ma dare valore non riflessivo alla nostra espressione, dobbiamo utilizzare eius o eorum. Come nei due esempi che vi propongo, di nuovo uno al singolare e l'altro al plurale. Partiamo dal primo. Greci romam visitant et templa eius. Lo traduciamo in italiano. I greci visitano Roma e i suoi templi. I greci soggetto visitano predicato verbale. Che cosa? Roma, complemento oggetto, e poi c'è un altro complemento oggetto. E che cosa? E i suoi templi. I templi, evidentemente, non sono dei greci, che sarebbero il soggetto di questa frase, ma sono di Roma, cioè di un altro elemento presente nella frase stessa. Dunque, non possiamo dire suus, dobbiamo utilizzare eius. In questo caso, correttamente declinato, et templa eius. E i suoi, di Roma, di lei, templi. Vediamo un altro esempio, questa volta al plurale. Romani gallos vincunt eteorum vicos delent. La traduzione? I romani sconfiggono i galli e distruggono i loro villaggi. Dunque, i romani soggetto sconfiggono predicato verbale. Chi che cosa? I galli, complemento oggetto. E poi, seconda cosa, se i romani, soggetto sottinteso, distruggono predicato verbale, che cosa? I loro villaggi, complemento oggetto. Attenzione, i loro villaggi che cosa significa? I villaggi evidentemente dei loro nemici, cioè dei galli, e non i loro stessi villaggi. Non avrebbe senso, i romani non è che si distruggono da soli. Dunque, vedete, in questo caso, nella frase c'è il valore non riflessivo. Questi villaggi non appartengono al soggetto grammaticale, cioè i romani, ma ad un altro elemento presente nella frase, in questo caso i galli, che erano complemento oggetto. Dunque, il latino dirà et eorum vicos, cioè letteralmente, e distruggono i villaggi di loro, di quelli, cioè ovviamente dei galli. Notate dunque la differenza. Caso A, possessivo di terza persona, sus, su assum, valore riflessivo, ci si sta collegando al soggetto della frase. Caso B, esattamente l'opposto. Valore non riflessivo, in questo caso utilizziamo eius, 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 singolare, oppure eorum, earum, eorum, plural. Concludo con una precisazione che però può essere molto utile conoscere. Nel caso A, ripeto, soltanto nel caso A, valore riflessivo, in italiano può essere meglio tradurre non con suo o con loro, come ho fatto anch'io negli esempi, ma con un sinonimo che è adeguato al valore riflessivo, cioè con proprio o propri. Provare per credere. Riguardiamo gli esempi 1 e 2 del caso A, sostituendo a suo e loro, proprio e propri. Rileggiamo anche soltanto le traduzioni. Una buona matrona ama il proprio figlio. Oppure i tribuni conducono le proprie truppe nell'accampamento. Avete notato? Se utilizziamo proprio, propri, proprie, e così via, non c'è ambiguità, non c'è pericolo di equivocare il significato della frase. Utilizzando suo e loro, invece, la traduzione sembra un po' più ambigua. Viceversa, nel caso B, utilizziamo tranquillamente, come negli esempi, suoi, loro, oppure di lui, di lei, di loro, e non ci saranno problemi. Spero anche in questo caso di essere stato almeno un po' d'aiuto. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.